È una situazione drammatica, quello che lascia sconcertati è di trovarci ancora per l'ennesima volta di fronte a situazioni di questo tipo con una risposta che appare sempre stentata o quantomeno troppo ritardata. È stato detto prima, già da più commenti l'hanno ribadito ed è evidente anche dalla carellata che avete fatto, siamo davanti da tempo ormai a un attacco globale, che si tratti di un terrorismo più o meno organizzato è un attacco esteso globale che non ha confini. Ora è chiaro che se gli bisogna dare una risposta non può che essere proporzionata e globale e senza confini. Il paradosso è che invece mentre questi attentatori ci colpiscono una volta a Parigi, una volta ad Ancara piuttosto che nel centro dell'Europa, piuttosto che sulle sponde del Mediterraneo, ci sono invece politiche di risposta sia in termini di politica estera sia in termini di azioni anche di forza che sono stentate e frantumate. Penso che proprio in questi giorni si sta votando da parte del Parlamento italiano il rinnovo delle missioni internazionali e lì dentro ci sono delle posizioni che corrispondono poi a quelle della Nato che vogliono una Turchia, perdono, una Russia su posizioni dissociate rispetto alla Nato. che è una cosa che non ha senso di fronte a un attacco del genere. Gli stessi rapporti tra la Turchia e la Russia piuttosto che ancora come abbiamo potuto vedere purtroppo quando c'erano gli attentati in Egitto, i paesi europei il giorno dopo presentarsi in Egitto a fare affari mentre gli italiani si trovavano con situazioni come quella di Regeni che mettevano in imbarazzo i rapporti stessi. È una situazione che non funziona, che ci dice che se non si dà una risposta globale, unita e univoca chiaramente i terroristi che fanno una partita e purtroppo giocano una partita mortale, asimmetrica, non colpiscono sul fronte ma entrano nelle città, colpiscono il nostro modo di vivere avranno sempre un'opportunità in più per fare i propri attentati.